Borrago officinalis, conosciuta più comunemente come borragine, è una pianta annuale che viene coltivata soprattutto per il suo valore alimentare. Raggiunge un'altezza di 80 centimetri e dà un portamento eretto con delle foglie ovate e ellittiche che hanno un colore verde scuro e sono ricoperte da una tomentosità che quando la foglia diventa grande addirittura quasi pungente. I fiori sono a forma di stella con cinque petali e sono di colore blu intenso. Come dicevo è una pianta con un buon valore di tipo alimentare perché viene consumata sia fresca come integrazione nelle insalate miste quando le foglioline sono ancora piccole che non hanno ancora questa tomentosità tanto pronunciata che cotta con le foglie adulte. Le foglie lessate possono diventare un ingrediente per tortini, per ripieni e si possono consumare come gli spinaci. È una pianta molto interessante perché il sapore è molto buono. Ma negli ultimi anni ricerche fatte sui semi di questa pianta hanno scoperto che contiene degli acidi grassi polinsaturi molto utili per integrare la nostra dieta che spesso ne è povera. Dunque l'olio estratto a freddo dai semi di borragine è un tocca sana per la nostra salute. Dunque se ne fanno anche degli usi fitoterapici come integratori alimentari per migliorare la nostra qualità della vita. La borragine viene coltivata in tutto il globo nella fascia temperata. La possiamo coltivare da seme in primavera ottenendo delle ottime piante nell'arco di un paio di mesi. Si dissemina facilmente in giardino quindi una volta che l'abbiamo seminata l'anno dopo sicuramente rinasce e non abbiamo più la necessità di piantarla. Viene utilizzata non solo come pianta officinale o pianta alimentare ma anche a scopo proprio floreale. Dunque inserita nelle bordure miste, inserita nelle aiuole delle aromatiche darà colore lungo tutto il corso dell'estate. Addirittura le piante che nasceranno dopo la prima fioritura andranno a fiore in tarda estate avremo fiori di colore azzurro fino a novembre. È una pianta molto interessante da rivalutare e da inserire all'interno del proprio giardino.